Ciao Alberello! Ciao! Ciao! Tutto bene? Sì tutto bene! Ciao! Sono un amico degli alberi! Sono un cazzo di amico degli alberi... Vieni qui amico mio! Vieni qui! Di Sister X e 91 Show Ehi voi di orzo, mi sono andata a casa, siamo nuovamente qui su Minecraft per 9 tempi Wow Ok, tornata su da me, grande, perfetto, e ho anche failato l'intro Quindi dicevo siamo qui per 9 tempi, ma Minecraft avventure E come abbiamo visto dal sondaggio Diciamo da adesso in poi si farà una survival mode Chiamiamola così La versione di gioco è la 1.3.2 Con delle mod che vedete qui Sono svariate mod aggiuntive al gioco Comunque trovate tutti i link per le mod in descrizione Dentro alle pagine ci sono tutte le istruzioni in inglese Ma ci sono E niente Quindi iniziamo un nuovo mondo Motività ovviamente Estrema Seme Ciucciamolo Tipo di mondo biomi grandi ovviamente Generazione turistica Nome del nuovo mondo Rexonia Sì Mio mondo Competto il mondo costruisco il terreno Show Andiamo Muovi quel culo Su Forza programma Ok Eccoci Ok eccoci qui Oh Cazzo Tutta acqua Tutta acqua Tutta acqua Ah bene Ok Perfetto E lì ci sono delle mucche Ok sta laggando Carica questo diavolo di mondo Ok perfetto E E E E C'è 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 Oh Pecco le mucche Oh Lurino Lurico e mucca Oh Muori Muori Per Il pugno di Okuto Sì Ok Ok poi cosa Cosa consistono Le nuove mod Ve lo farò vedere Piano piano Nel frattempo Intanto vediamo Di farmare Un po' di legno Un po' di legname Sì Distruggere il legno Con il legno Anzi Con una bistecca Sì E Ucciderò le mucche Con la loro stessa pelle Vieni qui Questa è di tuo fratello Vieni qui Mucca No Mucca Mucca Fatti uccidere Su Ok Potevi darmi un altro po' di pelle Maledetta Basterda Comunque Che bello Farmare roba Su Minecraft Nuovamente Per un'altra Emozionantissima Avventura Un'avventura Della Ma È un'avventura Quindi Credo di avere abbastanza legna Credo di sì Quindi ora Ok Perfetto Basta Basta così Nove possono andare bene Oh mio Dio Non ho una testa Ho Un paio di occhiali bianchi Oh mio Dio Ho una testa bianca Ah Maledizione È ora Oh Sì Cambio il legno Cambio il legno Oh niente Ok Allora Facciamoci un po' le assine Creiamo il nostro Tavolo Banco Sorry Banco Di lavoro E ora Creiamoci Gli utensili Creiamoci Sì Gli utensili Necessari Allora Vai così 32 E' questo Va bene così Perfetto Peccone Mio Sì Peccone è leggermente diverso Diciamo è per le mod Una delle mod che ho messo non mi ricordo qual era Forse era metallurgia Forse Forse Non è qui Maledetto Mocca Schifosa No Servo un nome di pelle per far vedere una bellissima mod che è lo zè Uh eccolo lì eccolo lì eccolo lì Vedo le pietre Ok Lì si ergerà il mio castello Credo Forse E ora S'altro tipo Corpiato Mamma mia Da oro olimpico Perché c'è questo diamine di bug dell'ombra? Io non l'ho ancora capito Tempo risplende Sole bello Una pro Una piovra che dà capocciate alla sabbia così perché Gli piace farlo E' noi che andiamo a distruggere belle e tostissime pietre Vieni qui pietra Perfetto Dovrò anche crearne credo un riparo per la notte Sì anche perché essendo difficoltà estrema Se muoio è finita la partita Quindi devo cercare di non morire Dio fa che non muoio e che non abbia fatto una cazzata Perché ho messo difficoltà estrema Non lo so Non lo so Ok E Ok credo che 18 possano bastare Su Dannato Dannato Fango Terra Terriccio Fango schifoso Fammi salire Oh guarda che bello Spiazzo luminoso Ok qui non c'è nemmeno un po' di carbone Donnacchione Dannato Ok Oh polli Ciao polli Ciao creperete tutti Allora Continuiamo questa magica avventura in questo magico territorio minecraftiano E vediamo se riesco a far vedere qualche arma e utenzi di nuovo che posso crearmi tramite Il mod Ok andiamo lì Lì mi sembra un posto perfetto per una casetta Sì Lì ci sarà Io Fondutissima Caverna Oh ecco qui c'è anche del nuovo minerale Tutto mio Tutto Oh cazzo Credo mi serva Il fottutissimo piccone Di pietra Dannazione Allora E in più mi faccio anche No Una bella spada di ferro E Un'ascia di pietra per il legno E anche Così ve lo faccio vedere Un altro paio di armi Una è l'ascia da battaglia di pietra E l'altra è La lancia di pietra Sì Questo qui Questo qui E tu vieni qui Perfetto Quindi Esattamente Che diavolo è questa cosa? Bitumen Bitumen Ma che cazzo è una pietra tedesca? Ma vaffan bene Maledette pietre tedesche No Ok Ok Voglio vedere che diavolo di pietra è questa Cos'è? Sulfur Addirittura Sulfur Te lo do io Il sulfur Maledetto Peccolo Questione Oh altro Ma è bellissimo Però se non riesco a trovare della minchia Di carbone Per me è finita Quindi Portatemi Del carbone Dai Ancora ciò Qui Rompiti 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 Maledetto Peccone di legno Schifo Forza E' di qui Ok Finalmente Grazie Ok Perfetto Ok Qua c'è l'entrata della mia Fortezza E ovviamente se magari qui chiudo E' meglio Allora Da che parte posso andare a cercare carbone? Andiamo di qua Andiamo Dannatissimamente Da questa Ok Di qua Ciao alberetto Ciao Ciao Come stai? Tutto bene? Sì Tutto bene Ciao Sono un amico degli alberi Sono un cazzo di amico degli alberi Vieni qui Amico mio Vieni qui E' fatti uccidere Tennato albero Dei miei coglioni Vieni qui Dove sono gli ambientalisti? Maledetti alberi schifosi Tentano di conquistare Il mio mondo Oh zucche Zucche Ciao zucche Venite qui Oh Cazzo Potrei tentare un Triple Oh no Di qua Di qua Di qua Oh 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 Fermo 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 Che è questo? Oh Un nuovo tipo di Di minerale Sì Però Sto per crepare Ok Apri Dammi tutto Che minerale Diamine di minerale E Ah E' il Copper Il famoso rame E' un Cozzo di rame Maledetto E' C'è delle Pietre fluttuanti Ok Bellissimo Pietre volanti Ottimo Che carina Le zucche Venite qui Tognatissime Zucche Perché le Wait a sec Perché sono considerate Legno Che da adesso Le zucche Sono di legno Ovvio Le famose Zucche di legno Come ho fatto A non riconoscere Subito Oh Altre pietre Altre belle pietre Forse qui E' anche meglio Oh mio dio Guarda Tutto Tranne il Car Oh no No Forse quello è che No non è carbone Dannazione Niente carbone Ah io mi sto anche Rompendo una rotola Allora Devo mangiare qualcosa Prima di crepare Fortuna che ho ammazzato Tutte quelle mucche Cioè però E' orribile Quando mastica Cioè sembra che sta Ruttando Dannazione Che schifo Che schifo Pecore Pecore Dov'è il carbone Dov'è il dannato carbone Non lo sappiamo Morirai di fame Oh sì Oh sì Guarda tu fratello Maledetta pecora Da 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 Ok Credo che non ce la sia Presa abbastanza Oh ma fa E' schifo Maledetta Lancia E' schifo Oh cazzo Si sta facendo notte Si sta facendo notte Io sto per crepare Ah Ok Andiamo di qua Di qua Di qua Ok Questa Questa Su Sbrigati Dannazione Ok Così Va bene Quindi bro Termino questo Video che appaia Ci vediamo in prossimo Video che appaia Sempre con il vostro Rex E' da mattuno E io devo vedere Quando diventa giorno Perfetto Quindi ci vediamo In una prossima giornata Felice e luminosa Sempre qui sul vostro Minecraft Sempre con il vostro Rex E' da mattuno Ciao a tutti bro